Un fine settimana costellato di incendi, quasi tutti di origine dolosa, quello appena trascorso nel comprensorio ionico. Ultimo in ordine di tempo quello avvenuto ieri a Fiumafreddo, in via Badalà, intorno alle ore 5, probabilmente originato da un cortocircuito che ha parzialmente danneggiato la parte anteriore di una vettura. Nella frazione giorese di Tre Punti, sabato sera, poco prima delle 21.30, a pochi metri dall'uscita autostradale di Giarra e in via Carlo Cattaneo, un'autovettura in sosta a una Fiat Grande Punto Blu è stata avvolta da un incendio che i Vigili del Fuoco hanno accertato essere di origine dolosa. È stata infatti rinvenuta, poco distante l'auto distrutta dal fuoco, una bottiglietta con all'interno del liquido infiammabile. Scongiurate pesanti conseguenze invece per l'incendio di Vampato, sabato, poco dopo le 14.30, a Santa Maria la strada nel sottoponte di via Ruggero I, dove è andata in fiamme una maxi discarica di rifiuti ingombranti. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Lingua Glossa ha evitato che il rogo di probabile matrice dolosa raggiungesse un deposito di bombole GPL che si trovava a pochi metri. Ancora nella giornata di sabato, intorno alle ore 12, un incendio è divampato all'interno dello storico teatro incompiuto di via Teatro a Giarre, oggetto di lavori di ristrutturazione compresi nel contratto di quartiere di via Carducci. Il rogo, che sembrerebbe di origine dolosa, è stato circoscritto dai Vigili del Fuoco.